Buonasera, come amministrazione comune di Ricadi siamo subito stati presenti, siamo subito stati collaborativi con l'associazione Victoria, con Alessia, Marta e attivando la macchina della solidarietà. Ci siamo attivati insieme a tanti cittadini, associazioni di volontariato, commercianti per dare il nostro contributo e una mano ai fratelli ucraini che in questo momento vivono una situazione di oppressione e di violenza da parte della vicina Russia. Speriamo che questa situazione si possa risolvere in più fretta possibile. Come calabresi abbiamo tanti difetti ma quando ci sono questi momenti riusciamo a fare quadrato e ad attivare quella straordinaria macchina della solidarietà. Non ci fermiamo qui, saremo ancora pronti nelle prossime giornate quando ce ne fosse bisogno ad aiutare i fratelli ucraini. Grazie per la visione!